Tom Cruise non ha seguito l'etichetta tradizionale quando ha incontrato il principe William e Kate alla premiere di Maverick oggi, l'attore è stato visto salutare il duca e la duchessa di Cambridge con una stretta di mano quando si sono incontrati sul tappeto rosso a Leicester Square per la premiere glamour dell'ultimo film di Top Gun. Successivamente, si è gentilmente offerto di tenere la mano di Kate mentre salivano i gradini, Kate non rifiutò e diede la mano a Cruise, mentre il principe le stava accanto. Tuttavia, Tom Cruise non è stato visto inchinarsi alla coppia reale. Come impone l'etichetta tradizionale? Anche se non ci sono codici di comportamento obbligatori quando si incontra un membro della famiglia reale, molte persone desiderano osservare i costumi tradizionali. Da uomo, Tom Cruise avrebbe leggermente chinato il capo, in segno di rispetto verso la corona, il duca e la duchessa di Cambridge si sono uniti alla 59enne star di Hollywood che è arrivata sul tappeto rosso a Leicester Square per la premiere del suo nuovo film, che si svolgerà come una performance cinematografica reale. La coppia è arrivata tra gli applausi degli spettatori e i flash delle telecamere durante l'evento ed è stata presentata ai membri del cast. Il principe William indossava uno smoking di Alexander McQueen mentre Kate sfoggiava un abito Roland Moret bianco e nero. William indossava Cassini Crocket Jones con la scritta F-18 in un cenno al jet da combattimento pilotato dal personaggio di Cruise nel film. Tom Cruise ha detto che lui e il duca di Cambridge hanno molto in comune mentre si trovavano sul tappeto rosso per la premiere britannica di Top Gun, Maverick. Parlando della sua ammirazione per William, Cruise ha detto, entrambi amiamo l'Inghilterra e siamo entrambi aviatori, entrambi amiamo volare. L'attore ha anche espresso la sua gioia per essere tornato sul tappeto rosso, dicendo, amo quello che faccio, mi è sempre piaciuto e ora mi sto divertendo ancora di più. Particolarmente dopo gli ultimi due anni, anche solo avere un evento come questo è straordinario. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.